Cari amici, il mese di ottobre ci presenta una figura straordinaria, Francesco Tassisi, santo patrono d'Italia, il santo della pace, il santo della povertà, dell'obbedienza, dell'umiltà, della castità. E' colui che ha cantato la bellezza della natura nel cantico delle creature. Altissimo, onnipotente e buon Signore, tue sole laudi l'onore, la gloria, la benedizione a te ogni gloria. Ecco, Francesco ha cantato non solo il creato, ma l'amore a Dio e l'amore all'uomo. Lui ha scritto, Signore fa di me uno strumento della tua pace, dove odio fa che porti amore, dove dubbio che porti la fede, dove disperazione la speranza. Un messaggio per tutti noi necessario ai nostri giorni. Pace e bene.